Scendo spesso nei fine settimana a Villagana, con minore intensità nell'estate oppressa dall'AFA, è dominata dalle colture di mais che interdicono la vista, a piedi, non senza una sosta doverosa al cimitero. È il silenzio dei luoghi che mi attira, la possibilità di immergermi nella natura, di godere paesaggi mutevoli ad ogni stagione. Tra refattasi la presenza umana in case e campi, l'ultimo nido dei Martinengo offre la rara opportunità di percorsi che abbracciano la vastità delle moderne tenute agricole, le barriere arboree delle incisioni profonde e sinuose dell'oriolo e del gambalone, le incomparabili balconate che si aprono sulla volena dell'olio, il fiume stesso con i suoi meandri tortuosi, le sue rive ombreggiate dai salici e dai tioppi, la riserva naturale dell'isola Uccellanda col suo coacervo di alberi ed arbusti cresciti spontaneamente. Colori, atmosfera e sensazioni che si rinnovano nell'inarrestabile incalcare dei cicli annuali. Si tratti della sfoglia in unità invernale col sole radente che non riscalda il sonno profondo della natura, o del risveglio fiorito della primavera, oppure del verde fulgore estivo, come della magliroquente tabolozza autunnale, il lagana riesce comunque a sintonizzarsi e a consigliarsi con i sensi e con lo spirito. Sono rimaste poche famiglie di lagana e la vita sembra oggi scorrere solo nelle grandi stalle sorte ai margini dell'abitato. Qui il tempo pare essersi fermato e lavora lacrimente per cancellare i lasciti di una storia millenaria. La calma di un vascello abbandonato, i colari stenti e i colori che si svialiscono sotto l'azione della pioggia, la malinconia delle case vuote, in parte scalpita dall'animazione del ristorante insediato nel palazzo, pervadono l'atmosfera del piccolo borgo. Solo il rombo dei trattori, delle motociclette e delle rare automobili in transito disturba ogni tanto la tranquillità delle strade. Ultimamente si vanno intensificando i passaggi dei ciclo amatori, che apprezzano la quieta dei paesaggi naturali ed il profilo costruito di Villagana, paese senza età appollaiato come un guardiano sopra la costa, che li accompagnano lungo il percorso ciclabile che si snoda lungo il solco pluviano. A Villagana ogni cosa emana il sapore della storia, un lungo racconto che inizia e finisce all'ombra delle torri di Palazzo Martimengo. Il loro incombere severo e massiccio è omnipresente, da qualunque direzione si giunga, la loro presenza include rispetto e dispensa protezione. Villagana, culla del cristianesimo locale, venuto dal cremonese attraverso l'olio, ricordato dalle sue cappelle scomparse, ribadita da una sorta di pellegrinaggio che partendo dalla matra amabilis dell'oratorio privato di San Vittore e dall'immacolata concezione al culmine della salita, si svolge verso sera toccando la santella della Mater Salvatoris ed il santuario della Beata Vergine del Rino, per concludersi all'ombra degli Ippocastani dei morti di San di San Vittore. A metà della salita, una edicola violata ed abbandonata, in un'area di San Vittore, che custodiva fino a pochi decenni or sono ossa consunte di antichi abitatori, non accoglie più le attenzioni dei passanti. Il leone alato di San Marco vigila da quasi 500 anni su un confine che non c'è più, muto testimone del lungo dominio della Serenissima. Stalle antiche e moderne, barchesse lunghissime, aie spaziose, parlano ancora di una vocazione agricola che da oltre un secolo si è indirizzata e specializzata nell'allevamento delle bovine da latte di alta qualità. Nell'accavallarsi disordinato di suggestioni visive e di storiche rimembranze che in Villagana si concentrano, è piacevole ascoltare i rintocchi delle campane di Azzanello che, portati dal vento, si riverberano sulla riva sinistra del fiume. Essi evocano l'altra sfonda, altri valori, altri linguaggi, altre storie e di piccoli commerci che il porto di Villagana prendeva fino ad un tempo non lontano familiari, a rispetto delle rivalità e dei confini politici ed amministrativi rappresentati dall'olio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!